5 ogni altro interesse cede come per incanto dinanzi all'universale inquietudine per la salute pubblica giacché della notizia portata da don giacinto sulle prime smentita poi confermata non fu possibile più dubitare quando di lì a qualche giorno non si parlò più di casi sospetti a siracusa ma del divampare del morbo annoto il duca deliberato di tornarsene a palermo prima che le cose incalzassero e la via fosse chiusa resiste ostinatamente agli inviti del principe il quale si apparecchiava a partire per bel vedere all'annunzio del primo caso in città l'anno innanzi come nel 37 gli uzeda erano scappati alla loro villa sulle pendici della montagna e poiché il colera non arrivava mai lassù erano certi di liberarsene il principe smessa a un tratto la credine riparlava d'accordo e di unione voleva tutti con lui al sicuro tutti gli zii tutti i fratelli quantunque non fosse tempo di trattare d'affari non di meno per dimostrare al nipote d'aver preso a cuore i suoi interessi il duca prima di partire riferì a raimondo il discorso delle cambiali e lo esortò a mettersi d'accordo col fratello raimondo lo ascoltò distrattamente e gli rispose quasi infastidito va bene va bene poi se ne parlerà anche egli si era mutato ma al contrario di giacomo in peggio era diventato nervoso irascibile verboso e di buon umore solo quando donna isabella veniva al palazzo i fersa non sapevano ancora dove fuggire il colera il principe consigliava loro di prendere in affitto una casa al belvedere per essere vicini e a donna isabella sorrideva molto quel partito benché sua suocera preferisse rifugiarsi a leonforte come l'altranno voi dove andrete domandava raimondo e il giovane che le si trovava sempre a fianco dove andrete voi stessa e la chinava gli occhi con una severa espressione di biasimo quasi offesa e vostra moglie vostra figlia parliamo d'altro nonostante l'allarme cagionato dalla pestilenza l'intrensichezza delle due famiglie si strinsi ancora più in quei giorni fersa che era stato sempre lieto e superbo di venire al palazzo francalanza adesso godeva nell'esservi ricevuto consegni di particolare gradimento non solo raimondo ma anche e forse più giacomo dimostrava molto piacere in compagnia di lui e di donna isabella quando sua moglie andò fuori la prima volta dopo il lutto egli volle che facesse loro una visita la contessa per desiderio del marito accompagnò la cognata da sola matilde forse non sarebbe andata in casa di quella donna non voleva chiamare gelosia il sentimento che le ispirava se raimondo galante con tutte stava attorno a costei che tutti gli uomini accerchiavano non era già meraviglia e la stessa non riceveva continue proteste di calda amicizia pure tutte le volte che donna isabella la abbracciava e la baciava e la doveva farsi forza per non sottrarsi a quella dimostrazione d'affetto non sapeva bene rendersi conto della repulsione quasi istintiva che provava ogni giorno più forte quando tentava di spiegarla a se stessa l'attribuiva più che ad altro alla radicale diversità del loro carattere alla leggerezza all'affettazione alla mancanza di schiettezza che le pareva scorgere in lei non l'aveva anche ella udita lagnarsi a mezze parole con allusioni velate dei parenti del marito e dello stesso marito mentre ella vedeva bene quasi invidiandola la devozione portata le dà fersa e udiva ripetere che la suocera la trattava meglio di una figliuola andata a farle visite in compagnia della principessa non poteva accertarsene quei propri occhi donna mara fersa era una donna un po all'antica senza ombra di istruzione poco fine ed educazione anche ma molto accorta e semplice alla mano come una buona massaia aveva sperato da mogliare il figliuolo a modo suo ma questi andato una volta a palermo e vista l'isabella pinto orfana di padre e di madre l'aveva chiesta su due piedi innamoratissimo allo zio materno dal quale era stata educata nobilissima la pinto ma senza dote aveva però ricevuto un'educazione oltremodo signorile in casa dello zio facoltoso i fersa invece benché ammessi tra i signori nascevano mediocremente donna ferdinanda estimatrice ed amica di donna isabella li chiamava farsa farsa tutta da ridere ma possedevano gran quantità di quattrini donna mara sulle prime aveva tentato di opporsi a quel matrimonio ma poiché suo figlio era cotto dell'isabella e questa pareva più cotta di lui aveva finalmente consentito così la nuora palermitana elegante istruita e nobile venne a mettere nella sua casa una rivoluzione che ella sopportò con molta buona grazia per amore del figlio comprendendo di non potersi opporre ai gusti ed anche alle fantasie dei giovani donna isabella chiamandola mamma dimostrandole il rispetto che le doveva pareva scontenta di lei vergognosa della sua ignoranza e della sua semplicità era una cosa tanto sottile che matilde quasi incolpavasi di cattiveria notandola una specie di condiscendente compatimento verso le opinioni della suocera come per quelle di un bambino o d'un inferiore una impercettibile esagerazione d'obbedienza una certaria di sacrificio che pareva volesse ispirare l'altrui compianto ma che riusciva molto antipatica alla contessa peraltro questa era sicura di non dover sopportare troppo a lungo la compagnia di lei la necessità di sistemare gli interessi poteva solo trattenere raimondo in sicilia ma forse egli avrebbe affrettata la partenza per fuggire il colera già alle prime voci di pestilenza inquieta per la lontananza del padre della bambina ella gli aveva domandato che volesse fare ma suo marito non si era ancora deciso l'anno innanzi in toscana udendo le notizie delle stragi di sicilia del pazzo terrore che regnava nell'isola dello scioglimento di ogni civile consorzio aveva espresso la propria soddisfazione per essere lontano dalla selvaggia terra natale dove diceva non lo avrebbero sicuramente capitato in tempo d'epidemia pertanto ella era quasi sicura che sarebbero presto passati nel continente prendendo con loro la bambina per via raimondo invece pareva esitante se la pigliava sì con la cattiva stella che lo aveva fatto cogliere dalla pestilenza nella trappola isolana ma diceva di non potersi mettere in viaggio adesso che il male era scoppiato anche per riguardo della gravidanza di lei frattanto il barone le scriveva da milazzo di raggiungerlo lassù poiché il colera veniva dal mezzogiorno e di far presto a lasciar catania di non dar tempo alla gente spaventata di sbarrar tutte le strade così secondo che le notizie incalzavano che le lettere del padre le facevano maggior premura che il pericolo di restare divisa dalla sua bambina diveniva più grave il cuore di lei si chiudeva dal terrore dall'ambascia quasi ella fosse sul punto di perdere per sempre i suoi cari allora esortava più caldamente raimondo a prendere una decisione qualunque ad andare subito via andiamo via andiamo per adesso a casa mia non voglio lasciar sola teresina saremo anche più lontani dal focolaio della peste ho da chiudermi in un paesuccio di mare in tempo di colera per crepare come un cane bisognerebbe che fossi impazzito scrivi piuttosto a tuo padre e a tua sorella di portare qui la bambina il barone invece tempestò di risposta che per niente avrebbe commesso quella sciocchezza già che il colera era alle porte di catania e ingiunse alla figlia di non perder tempo e anche di lasciar solo raimondo se costui rifiutavasi di accompagnarla allora ella non seppe più che fare né chi ascoltare smaniando all'idea di restare divisa dalla figlia e dal padre non tollerando neppure da abbandonare raimondo poiché non poteva vivere lontana né dall'uno né dagli altri in quella triste stagione il giorno che il duca fatte le valigie partì per palermo e la si vide perduta fino all'ultimo momento il principe aveva insistito presso lo zio affinché venisse con lui al bel vedere il duca aveva continuato a rifiutare aducendo gli affari che lo chiamavano alla capitale la maggior sicurezza che c'era lì non pensate a me disse ai nipoti io non correrò pericolo mettetevi piuttosto insicuro voi altri vostra eccellenza stia tranquillo anche per me ho tutto pronto per andar via al primo allarme rispose giacomo rivolto al fratello al quale aveva già fatto un primo invito ripete in presenza di matilde se volete venire anche voi mi farete piacere raimondo non rispose voleva dunque davvero restare diviso da sua figlia poteva così tranquillamente viverne lontano nei terribili giorni che si preparavano matilde piangeva scongiurandolo di non far questa cosa egli le rispose seccato non so ancora ciò che farò a milazzo non vado di sicuro lasceremo dunque sola quella creatura se impediranno il transito se non potremo più vederla prima di tutto tua figlia non è abbandonata in mezzo a una via ma sta col nonno e la zia poi se quella testa dura di tuo padre m'avesse ascoltato a quest'ora l'avrebbe portata qui e saremmo pronti ad andarcene tutti insieme al belvedere dove non c'è neppure l'ombra del pericolo insomma a milazzo non vengo già si parla di casi sospetti a messina vattene sola se vuoi e tutti gli uzzeda quasi godendo dell'ambascia di lei quasi per non lasciarla scappare dalle loro unghie approvavano dicevano che oramai ciascuno doveva restare dove era e suo padre la rimproverava cremente di ostinazione ed egoismo mentre ella credeva di impazzire sognando tutte le notti sogni spaventosi di lente agonie di separazioni senza ritorno di spietate torture piangendo come morta la sua bambina l'altra creatura che si agitava nelle sue viscere vedendo suo padre e raimondo avventarsi l'uno contro l'altro e un giorno terribile come una notte d'incubo il principe venne a dire che il primo caso s'era manifestato in città che le strade si chiudevano che bisognava subito partire per belvedere dove anche i fersa sarebbero venuti la villa francalanza al belvedere era tuttavia nello stato in cui trovavasi tre mesi addietro al momento della morte della principessa la si riunirono con la rispettiva servitù la famiglia del principe e di suoi ospiti cioè chiara e il marchese donna ferdinanda il cavaliere don eugenio raimondo e sua moglie ferdinando non aveva voluto sentirne di lasciarle ghiande c'era rimasto per colera dell'altro anno voleva restarci anche per quest'altro dichiarando che nessun luogo offriva maggiori garanzie di immunità don blasco e il priore don lodovico erano già scappati con tutti i monaci di san nicola a nicolosi la villa degli uzeda era tanto grande da capire un reggimento di soldati nonché gli invitati del principe ma come il palazzo in città a furia di modificazioni e di successivi riadattamenti pareva composta di parecchie fette di fabbriche accozzate a casaccio non c'erano due finestre dello stesso disegno né due facciate dello stesso colore la distribuzione interna pareva l'opera ad un pazzo tante volte era stata mutata altrettanto avevano fatto dell'annesso podere un tempo sotto il principe giacomo xiii questo era quasi tutto un giardino veramente signorile amante dei fiori il principe aveva sostenuto per essi una delle tante spese folli che erano state causa della sua rovina aveva fatto scavare un pozzo per trovare l'acqua attraverso le secolari lave del mongibello fino alla profondità di cento canne lavoro tutto di braccia di colpi di piccone durato qualcosa come tre anni trovata finalmente l'acqua che un bindolo tirava su egli giudicò che la coltura della vigna poteva vantaggiosamente esser sostituita da quella degli agrumi quindi sradicò in quel tratto del podere non ancora trasformato in giardino tutte quante le viti per piantare aranci e limoni così le spese sostenute da suo nonno per costruire il palmento e la cantina andarono per tutte ma avvenuta donna teresa ogni cosa fu messa nuovamente sossopra i fiori essendo robe che non si mangia rose e gelsomini furono divelti i pilastri ridotti a mattoni la serra trasformata in installa peimuli e il vino avendo maggior prezzo degli agrumi i bei piedi d'arancia e di limoni tirati su con tanta fatica furono sacrificati alle viti restò appena quattro palmi di giardino tra il cancello e la casa e tanti piedi da grumi quanti bastavano a far la limonata d'estate così tutte le somme buttate nel pozzo furono buttate nel pozzo davvero ora appena giunto il principe ricominciava anche qui l'opera innovatrice iniziata al palazzo per verità egli non toccava il podere giudicando come la madre che le rose tisicuzze arrampicate sull'inferriata e sui muri della villa bastassero per il godimento della vista e dell'olfatto e che i cavoli le lattughe e le cipolle stessero molto meglio nelle antiche aiuole fiorite ma chiamati i manovali ordinò che buttassero giù muri e dividessero stanze e condannassero porte e forassero nuove finestre era d'eccellente umore e trattava benissimo i suoi ospiti faceva una corte devota alla zia ferdinanda usava molte cortesie al fratello e dalle sorelle al cognato marchese e dalla stessa cognata matilde naturalmente considerata la stagione nessuno parlava d'affari molto più contenta di lui era lucrezia poiché i giulente che in città non avevano casa propria possedevano una delle più graziose ville del belvedere e venuto lassù con la famiglia alle prime voci del colera benedetto passava e spassava ad ogni ora del giorno dinanzi al cancello dei francalanza contentone era anche il marchese e chiara non capiva nella pelle poiché i sintomi della gravidanza si confermavano marito e moglie si angustiavano soltanto per non poter preparare il corredo del nascituro la stessa donna ferdinanda si mostrava più accostabile addomesticata dall'ospitalità che il principe le accordava contenta di poter risparmiare la spesa dell'affitto d'un villino non quella del vitto perché ciascuno degli ospiti ci stava a suo costo ma il più contento di tutti era il principino mattina e sera nella vigna nel giardinetto a zappare a trasportar terra a costruire case di creta poi quando era stanco di queste occupazioni su a cavallo d'un asino o d'una mula a scorrazzare di qua e di là e se il cameriere o il fattore o le altre sue guide non lo lasciavano andare dove gli talentava dava all'uomo le frustate che sarebbero toccate alla bestia solamente la vista del padre li infrenava perché il principe lo aveva educato a tremare a un'occhiata ma tutti gli altri parenti lo lasciavano fare la principessa lo contentava ad un cenno la zia ferdinanda contribuiva anche a viziarlo come erede del principato ma don e eugenio lo contristava adesso peggio che in città con le sue lezioni il ragazzo quando stava attento comprendeva tutto però il difficile era appunto che stesse tranquillo studia adesso se no tuo padre ti metterà in collegio ammoniva lo zio e infatti il principe aveva più di una volta espresso l'intenzione di mandar via di casa il figliuolo di metterlo o al collegio cutelli fondato per educare la nobiltà all'uso di spagna oppure al noviziato dei benedettini dove i giovani che non volevano pronunziare i voti ricevevano un'educazione non meno nobile con salvo non voleva andare né all'uno né all'altro posto e la minaccia era tale che egli si decideva a fare asteggiature e a recitare le declinazioni in premio don eugenio lo conduceva con sé per le campagne di montpileri dove pochi giorni dopo il suo arrivo al belvedere aveva cominciato a fare certe gite misteriose circa due secoli prima nel 1669 le lave dell'etna avevano coperto da quelle parti un villaggetto chiamato massa annunziata del quale più tardi si erano per caso trovate alcune vestigia ora don eugenio che dal commercio dei cocci non ricavava molti guadagni aveva concepito pensando sempre a un gran colpo capace di arricchirlo il disegno di iniziare una serie di scavi come quelli visti ad ercolano e a pompei per discoprire il sepolto paesuccio ed arricchirsi con le monete e gli oggetti che avrebbe sicuramente rinvenuti il secreto era necessario affinché altri non gli portasse via l'idea perciò solo o accompagnato dal ragazzo che andava per conto suo a caccia di lucertole e di farfalle il cavaliere geronzava nei campi di ginestre e di fichi d'india sotto monpileri con antichi libri in mano orientandosi per mezzo dei campanili di nicolosi e di torre del grifo studiando la posizione pigliando misure a rischio di farsi accoppare come un tore dai mulattieri e dai pecorai che lo scorgevano in quelle attitudini sospette ma non bastava mantenere il secreto sull'idea bisognava anche spendere molti quattrini per tradurla in atto un giorno perciò don eugenio chiamò il principe in disparte e gli comunicò con gran mistero il suo disegno chiedendogli di anticipargli le spese degli scavi vostra eccellenza scherza o dice davvero scavar la montagna per trovare che cosa scodelle dell'altrieri e qualche pezzo di rame bisognerebbe essere matti indirettamente il principe dava del matto a lui stesso con quella risposta che non si sarebbe mai sognato di rivolgere al duca o a donna ferdinanda ma don eugenio in famiglia godeva poca considerazione per le stramberie commesse a napoli e soprattutto per l'assoluta mancanza di quattrini il cavaliere non riparlò più della sua idea mutata via deliberò di scrivere al governo perché facesse gli scavi a spese dell'erario e con la speranza che affidassero a lui la direzione il principino respirò liberamente perché le lezioni furono interrotte appena finito di desinare don eugenio si chiudeva in camera sua a lavorare alla memoria e non si vedeva più per tutta la sera mentre gli altri chiacchieravano o giocavano a poco a poco una società numerosa si era venuta raccogliendo in casa del principe tutti i signori rifugiati al belvedere tutti i personaggi ragguardevoli del luogo venivano alla villa francalanza dove con un trattamento d'acqua e anice il principe si faceva fare la corte c'era mezza catania al belvedere e gli uzeda che in città erano molto severi facevano adesso larghe concessioni atteso il luogo e la stagione ricevendo gente di minuscola od anche di nessuna nobiltà tutti coloro che donna ferdinanda derideva o disprezzava dei quali storpiava i nomi o ai quali assegnava bislacche armi parlanti gli iscilocca che chiamava siloca i maurigno che si facevano dare del cavaliere e che la zitellona chiamava cavalieri a piedi i mongiolino che discendendo da fornaciai arricchiti dovevano portare nello scudo tegoli e mattoni solo i giulente di quella casta dubbia non venivano alla villa per via del figliuolo ma il principe quando incontrava benedetto o suo padre o suo zio al casino pubblico rivolgeva loro la parola molto affabilmente e il giovane che non aveva interrotto la corrispondenza con lucrezia le riferiva tutto contento quelle amabili dimostrazioni ma la gioia invece di scemare accresceva l'abituale distrazione della ragazza e la chiedeva notizie ai vedovi della salute delle mogli difunte scambiava le persone non rammentava nulla una sera fece ridere tutta la società domandando allo speziale del belvedere che aveva una sorella in convento e vostra sorella monaca con chi è maritata il tema obbligato di tutti i discorsi erano naturalmente le notizie della città dove il colera si diffondeva lentamente però senza divampare con la forza spaventosa dell'anno innanzi poi ciascuno dava notizie dei parenti e degli amici rifugiati qua e là per il bosco etneo la cugina graziella che era la zafferana mandava biglietti o ambasciate coi carrettieri quasi tutti i giorni per sapere come stavano i cugini e dir loro come stava ella stessa e il marito e salutarli caramente e mandar regali di frutta e di vino la duchessa radali uzeda dalla tardaria non scriveva perché il duca nel trambusto dell'improvvisa scappata era diventato furioso la pazzia nel ramo dei radali era una malattia di famiglia il duca aveva dato nelle prime smanie tre anni innanzi alla nascita del suo secondo figlio giovannino e la duchessa fin da quel tempo vistosi cadere sulle spalle il peso della casa aveva rinunziato al mondo per tener luogo di padre ai figliuoli li voleva bene entrambi ma le sue preferenze erano per il duchino michele non contenta dell'istituzione del majorasco lavorava a migliorare le proprietà faceva una vita di economie e di sacrifici per lasciarlo ancora più ricco ella non dava ombra a nessuno degli uzeda la stessa donna ferdinanda che si credeva la sola testa forte la provava al bel vedere nonostante il colera la zittellona si occupava d'affari appartandosi con gli uomini che se ne intendevano parlando di mutui di ipoteche di crediti da poter accortare di fallimenti da temere e mentre il principe di rocca sciano esponeva alla speculatrice ai piani laboriosi coi quali costruiva pazientemente lentamente l'edificio della propria fortuna la principessa sua moglie di nascosto da lui si giocava con raimondo e con altri appassionati delle carte tutto quel che aveva in tasca il principe giacomo vedeva qualche volta giocare senza metter fuori un baiocco ma il più del tempo discorreva con quelli del paese venivano a fargli la corte il medico lo speziale i possidenti più grossi la gente la cui c'era gli andava avverso perché quanti tra i familiari della madre gli parevano iettatori erano stati da lui messi fuori non mancavano il vicario il canonico tutte le sottane nere del villaggio come in città la casa uzeda era qui frequentata da tutto il clero regolare e secolare per la sua fama di devozione per il bene sempre fatto alla chiesa il rifiuto del principe di riconoscere il legato all'abbadia di san placido non lo pregiudicava presso i padri spirituali in vita era umano che egli cercasse di tener per sé la più parte della roba così pure aveva fatto sua madre morendo avrebbe poi largheggiato con la chiesa per assicurarsi la salute dell'anima come capo della casa egli aveva del resto la facoltà di nominare i sacerdoti celebranti in tutte le cappellanie e benefici fondati dei suoi antenati lì al belvedere specialmente ce n'era uno molto pingue quello del sacro lume un silvio uzeda dolce di sale vissuto un secolo e mezzo addietro era stato sempre attorniato da preti e frati i monaci del convento di santa maria del sacro lume l'avevano persuaso che la madonna voleva sposarsi con lui ed egli non era entrato nei panni dal contento la tradizione narrava che avevano compito la cerimonia con tutte le formalità lo sposo dopo essersi confessato e comunicato era stato condotto in abito di gala dinanzi alla statua di maria santissima e il sacerdote gli aveva regolarmente domandato se era contento di sposarla sì aveva risposto l'uzeda poi la stessa domanda era stata fatta alla regina del cielo e per bocca del guardiano del convento anche ella aveva risposto sì poi si erano scambiati gli anelli la statua portava ancora al dito quello dello sposo il quale aveva naturalmente lasciato alla consorte tutti i suoi beni una lunga lite ne era seguita non avendo voluto gli eredi naturali riconoscere il testamento del matto finalmente per via di transazione si era istituita nel convento con metà dei beni una cappellania laicale sulla quale gli uzeda avevano esercitato il gius patronato così tutti i monaci venivano la sera a fare la corte al principe discutevano con lui gli affari del monastero tra tutta quella gente egli papeggiava sputava tondo ascoltato come un dio dimenticava il resto della società le signore e le signorine che giocavano a tombola o a spiegar charade o combinavano escursioni per la montagna e passavano il tempo così allegramente che senza le notizie del colera e i paesani armati per tener lontani tardi fuggiaschi nessuno avrebbe pensato che quelli fossero tempi di pestilenza solo la contessa matilde fra le comuni distrazioni non riusciva a nascondere il proprio dolore ella era venuta via dalla città quasi fuori di sentimento tanto forte era stata la prova a cui l'avevano messa con l'animo pieno di spavento e di rimorso sul punto di partire per la campagna aveva riconosciuto che la pena meno sopportabile non le veniva più dalla lontananza della sua bambina ma dal tradimento di raimondo come poteva più metterlo in dubbio la verità non le si era improvvisamente svelata all'annunzio che egli andava al bel vedere dove andava la fersa perché mai tanto insofferente di vivere in sicilia si era rifiutato a partire per il continente se non perché voleva restare vicino a colei e aveva finto di non sapersi decidere per aspettare che si decidesse quell'altra ed aveva mendicato pretesti e accusato il suocero e così bene temporeggiato che allo scoppio della pestilenza aveva fatto a modo suo né in quelle finzioni in quelle menzogne ella vedeva più la conferma dei brutti lati del suo carattere esse non l'accoravano perché egli ne era stato capace solo il pensiero che le aveva adoperate per amor di quell'altra era il suo cruccio che non amasse la figlia che fosse ingiusto verso il suocero e prepotente capriccioso sgraziato non le faceva nulla ella non voleva che fosse d'altre a firenze la gelosia di lei non aveva avuto oggetto determinato o aveva continuamente mutato d'oggetto poiché egli faceva la corte a quante donne vedeva e la stessa poi se era fino ad un certo punto assicurata giacché galante a parole con le signore la mutabilità e l'impazienza dei suoi desideri gli facevano preferire quell'altre le donne che si pagano che vergognoso dolore era stato il suo nel vedersi ridotta al punto di doversene rallegrare eppure ella invidiava ora le sofferenze passate giudicando intollerabile l'idea di saperlo così pieno d'un'altra da abbandonare la figlia in quei terribili giorni per starle vicino poi il suo cruccio cresceva misurando la rapidità con la quale egli progrediva nella via del tradimento a firenze aveva messo un certo pudore nelle sue tresche si era quasi studiato a momenti di farsele perdonare tornando ad ora ad ora buono con lei adesso sfrenavasi fino a costringerla ad essere spettatrice dell'infamia questo soprattutto la feriva che potessero essere così tristi da darsi un simile convegno sotto gli occhi di lei mentre i cuori umani tremavano al pensiero della morte che giorno quello della fuga al bel vedere per le vie arroventate dal sole in mezzo a nugoli di polvere calda e soffocante ella era nella stessa carrozza con chiara lucrezia e il marchese e la vista delle cure che questi prodigava alla moglie faceva più a ocuto il suo dolore raimondo non s'era voluto metter con lei l'aveva lasciata sola in quella corsa per i villaggi dove gente armata fermava ogni persona ed ogni veicolo contrastando il passo ma comprendeva ella nulla di tutto questo vedeva nulla sul suo cammino e la vedeva con gli occhi della mente raimondo sorridente felice a fianco di quella donna come l'aveva visto in realtà tante volte senza che la sua nativa fiducia la insospettisse ora però tutte le cose che non aveva saputo spiegare acquistavano un senso evidente le lunghe uscite di raimondo le sue attese impazienti il piacere che gli si leggeva negli occhi appena entrava con lei lo stesso misterioso istinto di repulsione che quella donna le aveva ispirato fin dal primo momento come doveva essere falsa e malvagia se le dava il tenero nome d'amica e l'abbracciava e la baciava mentre le portava via il marito egli stesso non era falso altrettanto quante menzogne aveva anche addotto la gravidanza di lei per non lasciarla sicilia e non si accorgeva ad attentare in quel modo alla vita della creatura che ella portava in grembo che giorno terribile nella carrozza scottante come un forno al cui sportello si affacciavano visi sospettosi di contadini brutali piena del nauseante odore della canfora che chiara e lucrezia tenevano alle narici contro la mefite ella sentiva mancarsi il respiro non sapeva dov'era dove andava voleva gridare al cucchiere alle compagne di viaggio tornate indietro non voglio venire affrontar suo marito buttargli in faccia il tradimento scongiurarlo di non condurla vicino a quella donna di non farla morire di salvare la creatura che si agitava nelle sue viscere di ridare la pace al suo cuore l'aria al suo petto aveva perduto i sensi infatti prima di arrivare al belvedere non rammentava più come quando fosse entrata alla villa lì era cominciata per lei una vita di trepidazione continua ad ogni istante aveva creduto di vedersi comparire dinanzi la fersa tutte le volte che il raimondo era andato fuori aveva pensato adesso è con lei e il non vederla il non udirne parlare accresceva il suo spavento lo rendeva più oscuro le procurava non sapeva ella stessa quale orribili sospetti di cospirazioni ordite da tutti a suo danno aveva trovato sì la forza incredibile di nascondere i suoi sentimenti per non insospettire il marito per non dare buon gioco ai nemici ma il silenzio imposto a se stessa rendendo più acuto il suo tormento le aveva tolto il mezzo di saper nulla perché nessuno nominava quella donna perché non veniva alla villa con tutti gli altri visitatori del principe dove era andata a star di casa e intenta avvagliare le mille supposizioni paurose che l'inquieta fantasia le suggeriva ella dimenticava il colera quasi non pensava alla figlia lontana quasi non si accorgeva del silenzio di suo padre questi doveva volergliene credere che avesse abbandonato la bambina per smania di divertirsi al bel vedere non le era accaduto sempre così che tutto quanto aveva fatto contro voglia per obbedire agli altri le era poi stato addebitato da tutti come capriccio e come colpa non era ella una di quelle creature disgraziate che non riuscivano a nulla di bene destinate a spiacere ad ognuno però non piangeva non pianse neppure quando invece del padre le scrisse la sorella carlotta per dirle che teresina stava bene e che erano tutti al sicuro non pianse ma si sentì vinta da una cupa tristezza che non riuscì a nascondere raimondo stesso se ne accorse le domandò che scrive tua sorella nulla che stanno tutti bene che non corrono pericolo hai visto quando io ti dicevo e le voltò le spalle erano passate due settimane dal loro arrivo e ancora non aveva udito parlare della fersa la sera di quel giorno appena cominciò a venire gente ella andò a chiudersi nella sua camera stava male non solo di spirito ma anche fisicamente la lunga agitazione travagliava alla fine anche il suo corpo era da un pezzo buttata sul letto con gli occhi e la mente fissi nelle tristi visioni del passato nelle paurose previsioni dell'avvenire quando fu picchiato all'uscio cognata era la voce del principe che fate perché non venite giù c'è molta gente stasera si gioca e la levossi si acconciò con mano tremante i capelli scomposti e discese certo quell'altra era finalmente venuta certissimamente raimondo le stava al fianco la chiamavano per farla assistere a quello spettacolo e per goderne guardò rapidamente nel salone zeppo non c'era però aveva appena preso posto accanto alle cognate che la udì nominare qualcuno diceva la villetta affittata donna isabella un guscio di noce rispose un altro i mongiolino ci stanno come le acciughe in un barile ella non comprendeva ma i fersa dove se ne sono andati era proprio raimondo che faceva questa domanda non sapeva dunque dove era colei nella campagna di leonforte donna mara preferito e la comprese a un tratto la gola le si strinse convulsamente andata via senza dir nulla traversò la casa con gli occhi gonfi e il cuore tumultuante giunta nella sua camera cadde ai piedi dell'immagine della vergine scoppiando in pianto di rotto pianto di gioia di gratitudine di rimorso anche poiché ella aveva sospettato degli innocenti le parve di tornare da morte a vita coi sospetti cessarono i dolori dell'anima e quelli del corpo partecipò alla vita della famiglia assaporò finalmente la dolcezza del riposo anche le notizie del colera non le davano timore per i cari lontani dopo le stragi dell'anno innanzi la pestilenza pareva non trovasse più dove apprendersi serpeggiava qua e la senza forza segue